C'è chi chiede maggiore pulizia, chi più sicurezza, chi un'organizzazione più fattiva. Non mancano come sempre le lamentele a fronte del piano per il ponte di ogni santi messo a punto dall'amministrazione comunale per la gestione della viabilità e non solo che a retto. Affluenza forse solo in parte penalizzata dalla pandemia, ma attore del greco, resta molto sentito il culto dei morti. Nel giorno della commemorazione dei defunti abbiamo chiesto ai cittadini torresi in quali condizioni hanno trovato quest'anno il cimitero, le criticità e gli eventuali interventi da mettere in campo per il futuro. Quest'anno lei come l'ha trovato il cimitero? Le pulite, però dovevano aggiustare i bagni, perché l'acqua non scende, non si può fingere che non scende l'acqua, perché la gente va e non prenderà anche un gatto di acqua e lo minano dentro. E per il resto? Il resto ho visto tutto a posto, quello che vengono solo di qua. Leggermente più pulito, sì. C'è qualche criticità? Più in ordine. C'è per lei qualche criticità da segnalare all'amministrazione? Ci sono, quelle non mancano. Per esempio le panchine, le trovo orribili, quelle panchine di legno, e andrebbero sostituite con panchine, non so, in ferro battuto per esempio, più sobrie, quelle sono proprio da giardino di casa. Il dottore del Greco è molto sentito il culto dei morti? Penso, chiunque abbia una persona cara sente il bisogno di fare una visita. Io vengo spesso poi, non è che aspetto il giorno dei morti, ecco. Vengo spesso e comunico con loro quella corrispondenza di amorosi sensi di cui ci parlava sui libri di scuola, l'abbiamo studiato al liceo, no? Ugo Foscolo. Lei quest'anno come ha trovato il cimitero di torre del Greco? Io vengo tutti i giorni, non posso dire come l'ho trovato. Per il ponte era in ordine, era tutto pulito? Alla mente al 100% no, comunque non è che funziona al 100%. Che cosa non funziona? È come pulizia prima cosa. Come sempre, uno scempio. Perché? Perché vengono trascurate tante cose e poi si fa quello che si vuole, come si vuole. Fare un appello agli amministratori locali? No, no, non commenti. Signora, lei come ha trovato quest'anno il cimitero di Torre del Greco? Diciamo, non come gli altri anni, perché l'affluenza è stata anche di meno. Però non abbiamo le comodità, ecco. Cioè? Io, mia madre che sta al lato giù, dove stanno i combattenti, non c'è una scala, non c'è nulla. Cioè, me la devo andare a cercare, oppure mi devo portare la sedia linea dalle... È questo che manca. Diciamo un po' di organizzazione, questo è tutto. Invece la pulizia? Eh, abbastanza, sì. Anche se ci doveva essere un po' di... per questi nomadi che girano, perché comunque ci doveva... Ho visto che dei custodi, l'altro ieri, li hanno rincorsi, però comunque girano, è un po' pericoloso per questo. Infatti, quando vedono le persone anziane, dico, è meglio andare via, perché non si può mai sapere, anche se la vigilanza c'è, comunque la polizia... Quindi lei chiede maggiore sicurezza? Maggiore sicurezza e in più le comodità per far sì che noi, anche venendo dai nostri genitori, dai nostri defunti, abbiamo qualcosa dove noi, una sedia, qualcosa, una scala. Non chiediamo tanto, una scala.